Un allarme che le associazioni ambientaliste lanciano da anni e che è rimasto finora pressoché inascoltato. Si tratta dell'enorme livello di inquinamento del rio Medrio, che da Castelrocchio nell'Assigiano giunge ad Aquiterme per poi sfociare nel Bormida. Da tempo è diventata una fogna a cielo aperto, che preoccupa in particolare gli abitanti di Vianizza, nella città termale, che con lega ambiente e l'associazione rinascita della Valle Bormida avevano inviato una precisa e documentata segnalazione al comune ad Amag, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi lungo tutto il corso del canale. I dati delle analisi effettuate da Arpa segnalavano poi livelli di criticità elevatissimi. Abbiamo evidenziato la presenza di scarichi non collegati alle condotte fognaghi, hanno spiegato i portavoci degli ambientalisti, e anche il fatto che dopo un primo intervento di Amag sulle fognature principali, nulla è stato fatto per risolvere il problema. Sono inoltre emerse criticità sulla tenuta dei condotti fognaghi, che in alcuni punti lasciano filtrare per colato nel rio. Inoltre nella parte iniziale, dove il fiume non è tombato, sta crescendo una forte vegetazione, che potrebbe creare danni alle condotte laterali. Una città turistica come Acqui hanno concluso che si freggia del presigioso premio Acqui Ambiente non può sottovalutare un problema che è dannoso per la salute dei cittadini. Nei mesi estivi più volte sono emerse proteste per i miasmi che risalgono dal corso d'acqua. Pertanto l'Egambiente dell'Ovadese delle Valle Orba e Stura e l'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida sollecitano ancora al Comune di intervenire per risolvere le criticità. Sono problematiche che seguiamo da vicino, ha risposto l'assessore all'ecologia Mario Pasqualino. Abbiamo già portato a termine gli interventi di nostra competenza, come la pulizia di calitori e vegetazione, ma è complicato attualmente realizzare un censimento degli scarichi condominali non collegati alla rete. Come Comune ci uniamo alla protesta degli ambientalisti per sollecitare gli enti preposti a trovare soluzioni. Sempre parlando di ambiente, spostandoci nell'Ovadese, dopo la partecipata marcia di protesta contro lo sversamento di fango che dall'invaso della Lavanina a causa dei lavori alla diga, ha pressoché cancellato i laghi del Gozzente, il Comitato per la Difesa del Gozzente e del Piota ha lasciato una petizione pubblica su change.org per chiedere alle autorità preposte un'azione concreta e immediata per salvare il salvabile e per valorizzare il patrimonio naturale del territorio. E mentre Iren, responsabile dei lavori sulla diga, ha fatto sapere che il cantiere non si fermerà, le firme raccolte finora ammontano ad oltre 1.500.